Assessore, il progetto LGNet2 secondo lei ha reso la città di Torino più inclusiva? Sì, ha reso Torino più inclusiva perché ha avuto l'impatto su 160 persone. Anche se avesse avuto l'impatto solo su una persona, Torino sarebbe stata un po' più inclusiva di come adesso è. Però l'impatto è stato su più persone e questo è importante. Bastano le persone che sono state raggiunte da questo progetto a fare di Torino una città senza problemi? No, i problemi continuano a esserci, esistono barriere nell'accesso ai servizi e quindi l'impegno della città di Torino ovviamente deve continuare, deve migliorare, deve rafforzarsi. Però questo è un primo segno tangibile del fatto che si può fare, si possono cambiare le cose, si può cambiare la vita delle persone in meglio. E poi un'altra cosa, è cambiato anche il modo che il comune ha di relazionarsi alle persone straniere attraverso una trasformazione del suo servizio stranieri che è un servizio che ha lunga esperienza e una grande capacità di intervento e che adesso si sta ingrandendo, sta ulteriormente migliorando le sue prestazioni con il progetto Spazio Comune insieme ad altre istituzioni, rendere un luogo il servizio stranieri di incontro di diversi servizi che possa semplificare la vita alle persone straniere e di conseguenza semplificare la vita a chi con loro lavora, vive, collabora. Quindi sono contento dei risultati e sono uno sprone a continuare in questa direzione.